La violenza della solitudine sull'informazione, sulla sensibilizzazione delle scuole e poi soprattutto raddoppiamo i centri antiviolenza. Sono 19 le strutture già operative tra centri antiviolenza, casi rifugio e case per la semi-autonomia. Nel 2015 ne saranno aperte altre 19. Lo stanziamento ammonta 3,9 milioni di euro, 2 dal bilancio regionale e 1,9 dal Fondo Nazionale per le politiche dei diritti e delle pari opportunità. I centri antiviolenza, ovvero le strutture che fanno prima accoglienza verso le vittime, passano da 8 a 21. Le case rifugio, strutture protette che ospitano donne anche con figli minori che corrono un pericolo concreto, da 8 diventano 13. I posti disponibili passano così da 97 a 132. Verrà aperta anche una nuova casa per la semi-autonomia, destinata alle donne in uscita dal percorso di violenza.